Decine e decine di fasce tricolori, sindaci che da tutta Italia si sono dati appuntamento venerdì 12 maggio al Teatro Carignano di Turino su invito del sindaco della città metropolitana Stefano Lorusso. L'obiettivo è chiedere al governo i diritti per le famiglie cosiddette arcobaleno, i diritti per i bambini e le bambine di tutta Italia, in particolare la possibilità di trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali, amministratori pubblici e società civile insieme in una battaglia di dignità. Dare certezza giuridica alle bambine e ai bambini che ci sono, i figli delle coppie omogenitoriali e soprattutto aprire una discussione sul matrimonio egualitario che permetterebbe l'adozione anche alle coppie omosessuali esattamente come capita per le coppie eterosessuali. Parlare di gestazione per altri è un fumo che viene lanciato nel dibattito politico per evitare di parlare delle cose vere che sono quelle di cui discutiamo oggi.